Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi con grandissimo piacere voglio presentare Unglorious, gioco della Aces Games, che tra l'altro ringrazio immensamente di cuore per l'inizio della nostra collaborazione, soprattutto per avermi fornito questo manuale, questa copia a recensione. Unglorious è un GDR, secondo me molto originale ed evocativo, che rimanda a capolavori del mondo videoludico che io, e anche voi, abbiamo adorato, tipo Medieval, ai tempi della Playstation, ed è un titolo italiano a cura della Aces Games, che è stato annunciato nel 2020 e poi successivamente ha avuto un Kickstarter che ha tirato fuori il manuale di base, più altri manuali di espansioni, set di dadi e quant'altro, ed è un titolo veramente, veramente, veramente carino, oltre che essere un'opera totalmente, totalmente italiana, quindi ancora una volta sono veramente fiero dei prodotti che riusciamo a sfornare in Italia, tra cui quelle che mi vengono più lampanti e più belli sono appunto Unglorious, o tutta la saga del mio gioco di ruolo preferito, lo sapete, Sine Reppie, che sono dei prodotti veramente spettacolari e nel loro anche unici, e la Aces Games sono gli stessi che hanno fatto Eevee Sugar e anche l'altro gioco che provai diversi anni fa appena uscita a Lucca Comics in Gameless Land, ed è il primo GDR post-apocalittico che abbia provato e mi è piaciuto veramente tanto. Vi vado a parlare di questa Unglorious, un titolo che sono convinto divertirà tutti quanti, grandi e piccini, esperti o giocatori alle prime armi. Vi riparlo a breve, dopo la sigla. Unglorious, della Aces Games, vedete in questo manuale base qui davanti, è un prodotto che non mi nascondo nel dire perfetto, e ora vi vado a spiegare il perché. Unglorious è un gioco che rimanda molto, rievoca l'ambientazione, l'abbasso tra l'altro, l'ambientazione di Medieval, noi siamo un personaggio che ha fatto una fine tragica, quindi andiamo ad interpretare un morto, occhio, il manuale ci dà anche le regole per interpretare un vivo, quindi si può giocare anche la parte iniziale, un essere vivente che poi fa una fine tragica e si risveglia in un morto. Questo gioco ha una cosa geniale, ci si può muovere in due dimensioni, che sono il mondo reale, in questa ambientazione, in quella più famosa chiamata Stoltardia, ovviamente è un gioco molto, che non si prende mai troppo sul serio goliardico, non dovete farlo troppo cupo, troppo serio, deve essere sempre scansonato e divertente come Medieval, oppure l'orto. L'orto è il purgatorio, chiamiamolo così, è quella via di mezzo che c'è fra Stoltardia, il reame dei vivi e dall'altra parte i paradisi, perché il paradiso non è uno ma sono più di uno e il vostro personaggio dopo aver fatto tutta quanta la sua vita e essere riuscito a risalvare tutti i problemi che aveva prima di morire, dovrà andare dai musoni, che sono gli incaricati praticamente del comune in questa ambientazione, sono creature grosse che non hanno le gambe, tipo fluttuano brutte appunto col musone lungo, con gli occhiali, che stanno a prendere date e tengono alla burocrazia dell'orto, che dovranno alla fin fine dare dei voti più o meno positivi e cercare di far indirizzare il morto, anche nel corso di decine, di centinaia di anni, perché si parla di tempi brevi come anche di lunghi, nel caso tu non sia un eroe, per indirizzarlo in uno di questi paradisi. Ed è bella come ambientazione perché voi potete muovere il vostro personaggio nell'orto, in questa ambientazione qui, o lo potete muovere anche nel reame di Stoltardia, che ci sono anche altri reami da visitare, ma questo regolamento parla in particolar modo di questo qua, però ci fa accenno anche ovviamente ad altri, quindi potrete andare nel mondo dei vivi o giocare nel mondo dei morti, che sono prettamente differenti. Nel mondo dei vivi ci sono i gaudiovivi, che praticamente, vi vado a dire le peculiarità, sono cacciatori di morti, quindi sono quelli che hanno giurato di distruggere tutti i morti dopo la guerra dei morti che c'è stata a 17 anni prima, sono quelli che hanno giurato di distruggere e quindi andate a affronteggiare loro. Ci sono anche noi necromanti, ma i necromanti, li hanno chiamati qui, che sono quelli che amano le arti necromantiche, quindi i necromanti, ci vuole fantasia per pensare queste cose, però è buffa, è bellina, che praticamente sono quelli che cercano di assoggettarvi. E ricordatevi che voi potete scegliere fra quattro tipi di morti, che sono quando create il personaggio, che è la scheda e il personaggio è il certificato di morte. Geniale. Sono le mummie, gli scheletri, gli zombie e i fantasmi. E ognuno avrà ovviamente le sue peculiarità, abilità, cose che può fare e cose no. E è molto bellino perché le peculiarità di questo mondo, dei vivi sono queste, del mondo che sarebbe, del mondo dei morti, il purgatorio che qui viene chiamato l'orto, sono l'ectocolla, che l'ectocolla in poche parole sarebbe quello che tiene fissato tutte qua delle cose che si vanno a distruggere, a staccare in questo reame, appunto molto molto illusorario, ma soprattutto che non ha una vera e propria fisica, cioè non ha le leggi normali della terra e quindi è un reame dove magari, vedete, una torre che si spezza a metà e inizia ad andare alla deriva e questa ectocolla che la guanta, la ritira giù ed è una specie di saldante che può tenere ancorato tutto, addirittura anche voi, pezzi di morti e cose del genere. E questa è la peculiarità della termettazione, come ad esempio i campi di sale e tante altre cose che per spiegarvi ci vorrebbe un video da un'ora. Quindi comunque sono tutte cose descritte perfettamente nel manuale. Ma, come vi dicevo, la cosa veramente carina di questo gioco è che non abbiamo la scheda, abbiamo il certificato di morte e non abbiamo 300.000 abilità e 300.000 caratteristiche, forza, intelligenza, distrezza, carisma, intelletto, socievolezza, karma, no. Oppure abilità a cavalcare, sparare, no. Qui praticamente tutto è segregato al tiro di un dado da 6, scusate, di un dado da 10 o più e quindi io vado a tirare un dado da 10 e la prova standard è superata con un 6 o più. Standard. Poi ovviamente può essere più difficile, alzata dal game master o anche più facile, quindi potrebbe diventare un 5 o un 4 o con bonus che potreste raggiungere. Quindi tiro il dado da 10, provo a sfondare la porta, tiro il dado da 10, ho fatto 6, ce l'ho fatta. Provo a, non lo so, a arrampicarmi per arrivare al cimolatore. Faccio un tiro, 6 ce l'ho fatta. Si può anche spendere punti anima, che sono quelli che danno la possanza al nostro non morto e spendendo questi punti anima si possono dare dadi in più. Ad esempio, spendendo due punti anima, si possono tirare due dadi da 10 invece che uno e tenere il maggiore. Laddove un 10, nella maggior parte dei casi, sarà sempre un successo critico e l'1 sarà un fallimento. Le ferite si dividono per ferita normale e ferita letale, quindi avete 10 ferite in tutto. Siete un morto, quindi non provate sofferenza, né dolore, né fame, né sete, né malattie. Quindi le ferite non letali non vi fanno niente. Potete averle anche tutte e 10, non vi fanno niente. Le ferite critiche o le ferite quelle più serie, quando le andate a segnare sulla scheda, quelle sono un danno vero e proprio e potrebbe essere un danno da botta, un danno da caduta, incendio, armi a magiche, perché qui la magia si chiama a magia. E in quel caso segnate un altro tipo di danno. Quando il vostro non morto subisce 5 ferite critiche, è morto morto. Non è più un morto normale, ma è morto morto. Vuol dire che proprio la sua eseggia è stata distrutta e praticamente è morto. Il personaggio è morto morto due volte. Ed è veramente carino perché voi sarete chiamati a muovervi sia a Stoltardia che nell'orto e dovrete più che altro la vostra missione è quella di guadagnare punti per provare a diventare un eroe, per provare ad andare in uno di questi paradisi, o anche soltanto per provare a tappare quei buchi che avete lasciato irrisolti nel vostro mondo e completare la vostra missione per riposare in Eterno. Sia chiaro, in questo gioco è molto buffo tipo Medieval, quindi personaggi scansonati, goliardica e soprattutto dovrete aver fatto una morte da stolti. Quindi questo dovete essere morti veramente da stolti, non eroici combattendo contro un drago. Dovete aver fatto una fine un po' da scemotti. In conclusione, questo Unglorious di Asus Games è veramente un prodotto unico, inimitabile, originale. Sì, si ispira a Medieval, hanno detto tanti, ma sembra la coppa di Medieval. No, non lo è. Se l'andate a leggere capite che c'è solo l'idea principale. Sarebbe come dire che andiamo a prendere Broken Compass. Eh, ma Broken Compass è Uncharted, è Indiana Jones, non c'entra assolutamente niente. È l'idea principale, ma poi, nello sviluppo dell'opera, non c'entra assolutamente nulla. Io ringrazio di cuore. Asus Games è un gioco per tutti, grandi e piccini, ma per me soprattutto grandi e piccini insieme. Magari il padre che vuole portare al tavolo il figlio e lo fa divertire con un titolo dove non c'è sofferenza, non c'è malvagità, non c'è cattiveria. Cattiveria ce lo potete anche mettere, ma un po' nello stile di Tim Burton. Nightmare Before Christmas, non dovete prenderlo troppo seriamente o snaturate completamente il gioco. Grazie a This is Games, se lo volete ordinare, primo link in descrizione e in sovraimpressione dal nostro negozio sponsor Giocolibreria Semola, al miglior prezzo sul mercato. E ricordatevi sempre di usare il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79€, spese postali gratuite in tutta Italia. Quindi il servizio è eccellente. Se nel manuale, se scusate, sul catalogo del sito non c'è, proprio lo cercate, Anglorius non c'è, oppure se è mai esaurito, quindi scorte esaurite in magazzino, scrivete al supporto a Corrado, il proprietario della Giocolibreria Semola, e fatevi presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Lui farà il possibile per trovarvelo anche fuori catalogo, ovviamente se è riperibile, al miglior prezzo e usate sempre, anche per questo, il codice discount Coridan7 per lo sconto del 7%. Ragazzi, prodotto unico, provare per credere. Ciao, alla prossima!